Un amico ed un fratello, Papa Francesco ha definito così il Rabino di Buenos Aires, Abram Sciorca, ricevuto in Vaticano insieme ad una delegazione in occasione della presentazione di una nuova e preziosa edizione della Torah. Questo testo sacro manifesta l'amore pastorale e viscerale di Dio, che diventa alleanza attraverso parole ma anche fatti. Dio ha ribadito il pontefice e il più grande fedele alleato. Lui ha chiamato Abramo per formare un popolo che diventasse benedizione per la terra e lui sogna un mondo nuovo dove uomini e donne vivano in armonia tra di loro e con il creato. In mezzo a tante parole umane che purtroppo spingono alla divisione, alla competizione, queste parole divine di alleanza aprono a tutti noi vie di bene da percorrere insieme. Anche la presente pubblicazione è frutto di una alleanza tra persone di differente nazionalità, età e confezioni religiose che hanno saputo lavorare insieme. Il dialogo fraterno e istituzionale tra ebrei e cristiani è ormai consolidato e efficace, attraverso un confronto continuo e collaborativo. Il dono odierno, ha concluso Francesco, si inserisce proprio in questa strada di unità e dialogo, quindi ringraziando coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa nuova edizione della Torah, ha incoraggiato a mantenere sempre una visione culturale aperta, nel rispetto reciproco e nella pace, in sintonia con il messaggio stesso della Torah. Grazie a tutti.